Il testino sinistro del Milan Subito molto molto propositivo Buone indicazioni da Ballotouré per Pioli Davvero ottime per non dire eccellenti Indicazioni da Brian Diaz nel ruolo di trequartista Ne approfitta allora Di Gesù che allarga invece a Ballotouré Accelera il testino sinistro del Milan Questa è la prima vera accelerazione di Ballotouré Che si guadagna comunque un giù come Magnan Che arriverà lunedì tra poco meno di... L'anticipo di Ballotouré falloso Il momento del terzino sinistro che si giocherà Di Ballotouré sulla sinistra Con il lancio lungo cerca di controllare Minesso Ma arriva di testa Capito Alla testa durante... Alla tempia sinistra Rivediamo Qui va molto alto Duca Anche Touré Costantino Qui bene Ballotouré due volte Prima chiudo Di Gesù allarga a sinistra Per Ballotouré Eccola la velocità di Ballotouré E il calcio d'angolo conquistato dalla... L'obiettivo naturalmente Averlo pronto per la prima di campionato Il 23 di agosto Anche tecnici Ma sono stati fatti davvero tanti tanti cambi Colpo di testa Non mettere fuori di Ballotouré Non arriva Robotti Arriva invece il terzino sinistro del Minesso A copertura Non c'è arrivato Minesso Golo di Castiglieco Mette fuori il Modena Al sinistro di Ballotouré E diventa un liscio Possesso e Touré praticamente Sulla linea dei centrocampisti Eccolo il cross di Ballotouré Ballotouré Tornare a lavorare sul... Ballone in verticale ancora Ballotouré è molto molto aggressivo Ora in coppia con Robotti Cosa farà di Gesù Che ha già toccato il suo primo pallone Comunque la... Ballotouré chiuso Che prova a sfondare prima centralmente Poi appena vede un po' di difficoltà Di Gesù Ballotouré Ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora di gioco Il Milan è in vantaggio Sul Modena 5-0 In quello che è il secondo test stagionale Per la squadra di Stefano Pioli Nel Minesso Ad allargare sulla destra Vediamo ora come si comporta In questa occasione Ballotouré Che si mette davanti Per Nana, Livorno e Reggina Le esperienze lontano da Milanello Per Blizzari Che rimarrà Di Paola Sul centro-sinistra Sesso e Touré Praticamente Sulla linea i centrocampisti Eccolo il cross di Ballotouré Di Gesù Che è entrato con personalità Ballotouré Va altissimo in pressing Ballotouré Aggressivo Caldara Ballotouré Si abbassa Ague a ricevere Castiglieco È già la seconda volta Che prova questa soluzione Il numero Per il arrivato Chi si allarga ora Riceve le d'Augue Ancora Ballotouré Il cross dentro Sato alle spalle Capone va di fretta A giocare A sinistra 31 anni Per Antonio Narciso Dell'80 Dei primi 45 minuti Ballotouré Ballotouré Dentro per Campionato di Champions League Senegalese Personalità e coraggio Da parte del numero 5 Noi Che Grazie a tutti